Musica Apre oggi la casa di Babbo Natale, in realtà si articola in tre spazi, avremo il salotto di Babbo Natale, ci sarà sempre lui a raccontare delle storie magiche, le sue esperienze, le sue avventure e attraverso questi libri spazieremo un po' con la fantasia e ci sposteremo anche dall'ospedale stesso, spaziando appunto dal Polo Nord alle mille avventure che ci proporrà Babbo Natale attraverso le letture. Ci sarà il laboratorio degli elfi, prepareranno oggettini natalizi o regalini da portare poi ai loro cari. E' il gangolo delle letterine. Allora come consuetudine per i bambini si scrivono le letterine di Babbo Natale, allora abbiamo pensato di portare questa iniziativa anche qui in un ambiente quasi lontano dall'area natalizia, dall'area della fessa. Queste letterine saranno poi imbucate presso un centro postale e arriveranno poi a poste italiane, perché da tanti anni ha un'iniziativa in corso, raccoglie le letterine e poi li smissa attraverso appunto gli operatori degli uffici postali e lì porta da loro un regalino, da un regalino simbolico dell'iniziativa Babbo Natale. C'è anche un sito online per chi vuole scaricarlo e avere così dei regali, dei giochini online. L'obiettivo dell'associazione è quello di rendere meno traumatica l'adegenza. Lavora sia sui bambini creando azioni di intrattenimento, di sostegno, ma lavora anche in sinergia con tutte le persone che a diverso titolo collaborano qui in ospedale. Quindi i nostri referenti sono i dottori, sono gli infermieri, sono le associazioni che come noi collaborano. Questa mattina ospiti particolari dell'iniziativa sono Officine Buone, che è appunto un'iniziativa di canto, scopre i talenti all'interno anche dell'ospedale. Tutto questo perché? Per rendere il posto giocoso a misura di bambina, perché secondo noi prima ancora di curare è necessario accogliere il bambino in quanto bambino al di là del disagio della malattia che si trova a vivere in questo momento, che speriamo sia solo un momento transitorio della sua vita. L'associazione poi prende in carico questi bambini e attraverso una rete che ha costituito da un paio d'anni offre sostegno e aiuto per bisogni diversi, al di là anche dell'ospedalizzazione. Quindi dal sostegno materiale al sostegno psicologico, attraverso delle figure specializzate che le sette associazioni mettono a disposizione. In questo periodo siamo assolutamente favorevoli a promuovere tutte quelle attività che possono riportare la fantasia del bambino nell'atmosfera del Natale, anche se il bambino viene in reparto e deve essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, a terapie. Vogliamo che il bambino continui ad avere sempre l'impressione che tutto quello che deve fare per la malattia non lo ha allontanato da quello che è il momento più surreale, non solo per gli adulti durante il periodo dell'anno, ma soprattutto per i bambini che lo vivono certamente in maniera speciale. In questo senso proponiamo tutte le attività e lasciamo che vengano svolte tutte le attività che le varie associazioni, sia le associazioni ludiche, sia le associazioni di volontariato, promuovono generalmente durante tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo avvalendosi di quelle che sono poi tutti gli ornamenti, tutto quello che accompagna la festività del Natale in maniera particolare. Una delle cose che noi facciamo e che vorrei proprio approfittare di questo momento per raccontare agli altri è proprio allestire un piccolo banchetto dove i bambini lasciano esposti tutta la giornata, dal mattino fino alle prime ore del pomeriggio, i lavoretti che fanno con le loro maestre e con gli animatori durante tutto l'anno. e questo è per dire un'attività promossa dal reparto per il Natale e che avulsa sia da quello che portano le associazioni, sia da quello che organizzano dall'esterno, ma che parte dall'interno per tutti quelli che ci osservano.